Archiviato il no della consulta al referendum sull'articolo 18, su quale però la CGL sta valutando se ricorrere alla Corte Europea, da oggi la campagna referendaria si concentra sui due quesiti ammessi, la piena responsabilità in solito negli appalti e l'abolizione dei voucher, i cosiddetti buoni lavoro per pagare le prestazioni di lavoro accessori e occasionali, una campagna elettorale che si pronuncia accesa. Il ministro Poletti ribadisce che i voucher sono uno strumento utile in alcuni contesti lavorativi. Se fossero abboliti ci sarebbe il rischio per molti di finire nel lavoro nero e rilancia la volontà di cambiare le distorsioni e gli usi impropri, garantendo che siano usati dove servono. Buoni lavoro che per la CGA di Mestre, che ha analizzato l'utilizzo dei voucher nel 2015, rappresenterebbero solo 0,3% del monte ore complessivo lavorato in Italia. Se sui voucher le cose sono quelle che sentiamo raccontare, non c'è alcuna coerenza con il quesito referendario, dice il segretario della CGL Susanna Camusso, non bastano piccole modifiche, quello dei buoni lavoro, aggiunge, è uno strumento malato, bisogna avere il coraggio di azzerarlo. La strada per le correzioni sostiene invece il leader della UIL, Carmelo Barbagallo, non è il referendum. Non serve un referendum, ma basterebbe una legge di due righe, dice il segretario della CISL, Anna Maria Furlan, che ribadisce l'impegno del suo sindacato per trovare una strada condivisa, per modificare radicalmente lo strumento di buoni lavoro che devono tornare al loro ruolo originario.